macchina che prende velocità al comando schizza via Yabin con all'esterno Nearco Kampf quindi il numero 4 di Orma OR quindi Yabin al comando delle operazioni con Nearco Kampf che prova a intervenire a largo ma disco rosso da parte di Salvorosta con Yabin e quindi Nearco Kampf deve fare gli straordinari a largo con Mohamed Play favorito in scia a Cesare Ferranti e Nearco Kampf quindi Yabin al comando Nearco Kampf all'esterno poi il 4 di Orma OR quindi Mohamed Play ancora il 10 di Ortigia Raben poi lungo i birilli segue anche il numero 1 di Le Grisby quindi Yabin sempre a condurre nei confronti di Nearco Kampf quindi Mohamed Play ancora il 4 di Orma OR quindi il 10 di Ortigia Raben Yabin che reagisce alla presenza esterna di Nearco Kampf Mohamed Play spettatore a sé interessato quindi Ortigia Raben Yabin Nearco Kampf poi Mohamed Play ancora Yabin Nearco Kampf Mohamed Play che aspetta qualcosina Yabin che reagisce lungo i birilli a Nearco Kampf quindi c'è Mohamed Play che interviene a largo quindi Ortigia Raben Yabin che controlla ancora Mohamed Play lungo i birilli Ortigia Rab Mohamed Play attacca a fondo Yabin quindi Mohamed Play che attacca Yabin Mohamed Play che nel tratto conclusivo prende vantaggio e viene a vincere nel più facile modo al secondo posto il 6 di Yabin al terzo il numero 7 di Nearco Kampf e dunque la vittoria per Mohamed Play che viene quindi a siglare quest'ultima da Palermo 3 per il primo 6 per il secondo e poi 7 per il terzo con il successo appunto di Gaspare Loverde 6 per il terzo